ciao piccolo video di presentazione del canale viper comics quindi un canale che parla e recensisce fumetti quali fumetti un po tutti fumetti italiani con ovviamente la bonelli a farla da padrone ma anche altri con i manga ovviamente per mia derivazione soprattutto di serie robotose ovviamente i comics con star wars i supereroi della marvel i fumetti dei transformers e anche la cosiddetta bedè ovvero la produzione franco belga verranno recensiti singoli albi o serie intere per consigliare o meno qualche lettura per far scoprire fumetti o storie interessanti ma come spesso viene le recensioni vengono pubblicate anche per un confronto per uno scambio di opinioni su un fumetto che magari anche voi avete già letto a me magari è piaciuto e a voi ha fatto pena pure voi ci avete visto qualcosa a cui non ho prestato attenzione insomma il classico scambio di vedute per poter osservare questa nostra passione da ogni punto di vista spero che video vi siano di stimolo e a questo punto non vi resta che augurarvi buona visione se vediamo 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 se vi è vediamo se 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 vediamo